Criminalità cinese tra traffico di stupefacenti e prostituzione. Retata dai carabinieri di Roma, decisive le rivelazioni di un pentito. Sergio De Nicola. Una pasticca, un drink e un incontro. Un pacchetto completo al costo di 250 euro, offerto da ragazze orientali in una discoteca a luci rosse di Roma, accessibile solo a clienti cinesi, previo contatto tramite una piattaforma di messaggistica dedicata. Spaccio e prostituzione gestiti dalla cellula romana di un'organizzazione mafiosa cinese dedita al traffico nazionale e internazionale di stupefacenti, ora sgominata dai carabinieri su indagini della direzione distrettuale antimafia. Per 19 tra cinesi, filippini e italiani si sono aperte le porte del carcere, domiciliari per 16, per altri 12 di vieto di dimora. Indagini partite, caso più unico che raro, dalle rivelazioni di un pentito cinese, arrestato per altri reati ed ora in carcere in una località segreta. L'attività investigativa è partita dopo aver raccolto le dichiarazioni di uno dei rari collaboratori di nazionalità cinese che ha consentito di far luce sulla struttura del sodalizio criminale, suddiviso in una cellula egemone a Prato ed un'altra satellite a Roma. Due donne cinesi a capo delle cellule imponevano un dazio di un euro per ogni grammo di droga sintetica che arrivava in Italia dalla Grecia su voli di linea o con pacchi postali, come quelli intercettati dai carabinieri che hanno trovato stupefacenti in peluche e confezioni alimentari.